È un marchio che vuole rappresentare uno strumento di certificazione di sostenibilità assegnata a enti, imprese e servizi che svolgono la propria attività nel territorio comunale di Padova perché posseggono almeno tre requisiti di sostenibilità ambientale e tre di sostenibilità sociale, tra quelli proposti dal comune certificante. Ed è positivo il primo bilancio dell'iniziativa del marchio per Padova avviata nel 2022. Ad oggi risultano certificati tutti gli uffici comunali e 36 enti che grazie al riconoscimento di questo marchio rappresentano la parte attiva di una rete virtuosa orientata al raggiungimento degli obiettivi cittadini di sostenibilità legati ad Agenda 2030. A colpire è l'eterogeneità di questa rete che comprende cooperative, imprese, associazioni sportive, di promozione sociale, aziende agricole, on-lust, società profit. Ad accomunare tutti questi soggetti è la dimensione etica, l'attenzione al valore del lavoro, al rispetto dell'ambiente, all'innovazione, all'inclusione sociale e alla creatività. Il progetto promosso dal settore servizi sociali e da quello ambiente e territorio prevede due tipi di certificazione. Il marchio blu, dedicato agli enti che applicano al loro interno criteri di sostenibilità ambientale e sociale. E poi il marchio verde, riservato a tutte le attività che forniscono quotidianamente servizi alla persona e alla famiglia, distinto tra servizi alla vita quotidiana rivolte ad esercizi commerciali e servizi alla persona in ambito sanitario, sociale, educativo e sportivo. Il marchio dura due anni, rinnovabili e può essere utilizzato come strumento di visibilità, riprodotto su materiale di immagine coordinata, carta da lettere, cataloghi, biglietti da visita, targhe, insegne. Inoltre con l'ottenimento del marchio si riceve dal comune una vetrofania da esporre all'esterno della sede che certifica l'ottenimento di questo riconoscimento che mira a favorire inclusione sociale, partecipazione e una cultura d'impresa responsabile. Grazie a tutti!